Siamo con Andrea Arduini, sempre palestra Second Out. Anche tu ti stai allenando e hai i guanti in pelle della Vandal. Come ti trovi con questi guantoni? Sono tra i più buoni che utilizzo ad allenarmi. Vanno benissimo sia per fare focus che per fare salti, per quando faccio lo specchio o il vuoto. Dopo ti vedremo fare i focus con Simone Dele Zirelli, l'allenatore della Second Out. Però adesso ci fai vedere una fase di allenamento al sacco. Voi avete sacchi da 80 e 100 kg. Questo è un sacco da 80 kg. Allora, facci vedere qualcosa. Perfetto! Grazie. Come ti trovi allora con questi guanti? Benissimo. Allora, ripetiamo i fight della Vandal. Abbiamo diversi colori. Però sono guanti che... Morbidi. E sono ottimi per allenarsi tutti i giorni. Esatto. Grazie. Ti lascio il tuo allenamento. Grazie. Ciao. Ciao.